ciao a tutti sono entrato senza avvisare nessuno perché appena ho vinto sul battle royal ecco perché ragazzi non vediamo che fa emozione amico il baccano non so che cos'è non mi direte che ragazzi che non so che cos'è piaculo si abonacolo pizzeria la criminalità no 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 è uno è uno di là che faccio io questo è bello vedete ragazzi che oh porca miseria perché ho dai 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 via 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 ha finito già quello è bello appena è installato la cosa vabbè ragazzi questo no ho sbagliato questo questo mettiamo anche questo ecco la data anche lui aggiungi un amico ma come aggiungi un amico di che sei basta che non mi disturbi qualcuno adesso andiamo a giocare sul zombie ok è rimasto solo uno e mi pare si ferma qui la cosa o 2000 mamma mia mi pare qua livello l'ultima fanno un altro un altro non lo so ah queste già stanno al secondo questo è appena entrato perché ci ha fatto così vaffanculo questo devo prendere un'arma se qualcuno dai 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 per favore dammi un'arma ok un'arma una k questa è una k questo è una k questo è una k questo è una k ora andiamo vediamo oh si no vado facciamo un altro ordinatore dai 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 eh va a rifottere sì un cecchino un'altra volta dai 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 questa sì questa la prendo oulala LVD va beh ok questo è bello questo 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 però ancora non posso usarlo le persone ancora non sa non sa che ci sta certe cose qua sul magazzino che si può prendere l'hanno ammazzato adesso hanno aperto tutte le porte questa porta no questi questi no questo va sempre o more adesso cade ma adesso cade adesso cade è rimasto poco di vita eccolo caduto perché lui lui è su maro no vaffanculo riparo adesso devo andare dove da questa parte è questa parte deficiente no però non è qui dell'altra parte siamo sbagliati io e te siamo sbagliati io e te siamo sbagliati era dell'altra parte no 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 vedi come ti salva la cosa missione compiuta è morto che deve questa roba che deve questa roba missione e quella roba vaffanculo voi è quella misteriosa cosa che cos'è facciamo se questo funziona immazzano